Il villaggio neolitico di Fianello e Le Cerquete, risalente a circa 4.500 anni fa, diventerà un Open Air Museum. La maggioranza del Consiglio Comunale di Fiumicino ha approvato un emendamento finalizzato a tutelare e valorizzare il sito archeologico, che si trova a Maccarese, nella zona 1 della riserva naturale statale del litorale romano. Perché è così importante questo sito? Beh, è importante perché ad esempio in tutta la zona qui di questa parte del Lazio siamo ricchissimi naturalmente sull'impero romano, sull'Etruria, ma non abbiamo niente sulla preistoria, o abbiamo molto poco. Questo invece è un sito molto importante, il villaggio era molto grande perché è stato scavato solo un decimo, quindi è soltanto un ettaro, di 10 ettari sarebbe la parte da scavare. Sono state trovate queste cinque capanne che sono in parte ricostruite, una piccola ricostruzione si trova adesso al Museo delle Origini della Sapienza, è sotto l'egida della sapienza che sono stati fatti per dieci anni gli scavi. È stato trovato, e questo è ormai abbastanza noto, i resti di questo cavallo domestico, che attesta l'antichità di questa specie in Europa. Stiamo parlando di 4.500 anni fa, cioè un periodo molto lontano. Poi sono stati trovati naturalmente reperti, vasellami, frecce, ossidiane. Tra l'altro è interessantissimo perché dagli studi che sono stati fatti risulta che probabilmente una parte era stanziale in questo villaggio e un'altra parte invece era migrante, diciamo, veniva stagionale, quindi era un abitato che si espandeva perché hanno trovato reperti e materiali che non sono qui della pietra o della zona locale. Quindi diciamo che sarebbe veramente interessante. Stanno nascendo un po' dappertutto questi parchi archeologici. Quello che vorremmo fare noi è una cosa però scientifica, per questo abbiamo preso fin dall'inizio i rapporti e relazioni con l'Università La Sapienza e con gli archeologi. In cosa consiste il progetto? Allora, guarda, il progetto è nato un po' da una sinergia tra l'amministrazione e i vari comitati che si occupano della zona. Mi hanno informato su questa situazione, di questi ghiacietta, di questa preziosità che abbiamo qui in Fiumicino e quindi ho preparato un ordine del giorno che è passato la scorsa primavera. Tra le altre cose è approvata all'unanimità, proprio per la salvaguardia di questa zona. Questo è il più grande villaggio neolitico tirrenico, almeno così la professoressa Manfredini stima le cose. Sono dieci ettari ed è un insediamento. I reperti stanno al Museo di Pigorini, quindi abbiamo pensato che bisognasse in qualche modo salvaguardare questa situazione, anche perché noi abbiamo un territorio molto ricco, sicuramente grandi presenze di archeologia etrusca, romana, ma questa è veramente una particolarità, è una rarità per tutta Europa. Quindi l'idea è quella poi di far nascere un museo all'aperto, gli Open Air Museum, che sono nati nei paesi scandinavi, ma ormai si stanno sviluppando in tutta Europa, con delle ricostruzioni anche virtuali, dei laboratori per le scuole e per i bambini. E questa è l'idea. Per dare gambe a questa idea, ci voleva una posta nel nostro bilancio per l'esproprio dell'area. Quindi abbiamo presentato un emendamento con l'ultimo bilancio per 10.000 euro, non so se basteranno, però gli assestamenti sono sempre possibili, per poter espropriare l'area. La sovrintendenza, tra le altre cose, ha aperto un tavolo, sembra che sia molto favorevole a questo progetto, quindi aspettiamo. Noi stiamo preparando già tutti i documenti, abbiamo già tutti i pareri, i vincoli, e aspettiamo la sovrintendenza per dar via all'esproprio vero e proprio. Dopo tanti anni questa zona viene rivalutata? Sì, assolutamente. Noi dal 2013, non appena insediata l'amministrazione, abbiamo fatto sì che in quest'area si passasse da zona 2 a zona 1 di tutela della riserva statale del litorale romano. Oggi invece c'è un altro tassello. Infatti abbiamo chiesto al Ministero di far dichiarare un interesse puntuale, un vincolo puntuale su quest'area, l'area delle Quercede Fianello, e appunto nel Comitato Tecnico Scientifico per l'Archeologia del 11 di dicembre è stata esaminata la richiesta che noi abbiamo fatto, con tutta una serie di documentazione, e pare, dobbiamo averne ancora l'ufficialità, che l'esito sia stato positivo. Questa è una cosa molto importante perché è una cosa che appunto dal primo giorno, a cui tenevamo dal primo giorno, e che vede valorizzato un pezzo del nostro territorio che sicuramente oggi è coperto, ma che chiaramente in un'ottica futura, cioè l'idea di un museo all'aperto, che è quello che è appunto stato il principio motore della nostra azione, è quello che vorremmo vedere di qui a qualche anno. L'assessorato ai lavori pubblici del Comune di Fiumicino è già al lavoro per stimare il valore dell'area ai fini delle spropi. Da Maccarese per Canale 10 Paolo Leone Grazie per Canale 10 Paolo Leone